Foto splendida! Gabbiani! La guerra interversa ancora sul vostro pianeta. Con l'aiuto di quei traditori della rete... ...per assumerà la nostra quartiere difensive... ...l'aiuto di che... ...l'aiuto di che... ...l'aiuto di che... ...l'aiuto di quei traditori... ...l'aiuto di che... ...brava, Jade! Ok, ci... ...allora, dottore? La sua diagnosi? Arrivo, Jade! È ora che la Jade Reporting & Company... ...rimpingui il suo procedimento... ...l'aiuto di che factime... ...kì! Oh cielo, Mr. Overcraft ha qualche problemino Speriamo resista fino al bambago Lì avranno quello che ci serve Bene, ci siamo Finito, morto Stupida bagnarola Il garage era a soli 300 metri da qui Se il motore ti fa disperare Al garage mammago devi andare Se il motore ti fa disperare Ehi gente, qual è il problema? Mi rimorchio io fino al garage mammago Mammago! Ehi, funziona! Già, per fregare i clienti funziona Dobbiamo uscire da questa scatola di sardine, Jade! Sì, comincia a sapere tutto di pancetta affumicata qua Identificato, datato, archiviato Bene, il tuo rullino è finito Brava, Jade! Ti invio lo zoom E ti ricaricherò il rullino Ehi, Jade! Vacci piano Ti ucciderai correndo in giro a quel modo Identificazione, conto Ok Perfetto, l'archivio è Uno Starchos ripristina l'energia di un cuore Identificazione, conto Ok Un meca impulsore aumenta l'energia del veicolo di un'attacca Uno è la cui idea di un pebone Uno è la cui idea di un ule Nella tu sei un ule Eh Sam! C'è un motore di Velocraft da montare! Presto? Il motore di un Velocraft? Nessun problema! Ottimo lavoro alla radio dicono che ci sarà un altro attacco non fatevi togliere impreparati allarme rossi allarme rossi scudo in funzione attivano le navi dobbiamo proteggerle sta sparando ai pescatori james attenta le mine presa attento, non lo tenterà più rispetto ehi, non sta fermo un attimo ehi, page, un'altra perla ci farà comodo nel caso in cui dovessimo tornare a un man mano ehi, chi è la sua attento, non lo tenterà più rispetto a chi fa attento Ehi, Jade! Un banco di scorfani blu! Scommetto che piacerebbe al centro... Signorina Jade, il signor De Castillac desidera incontrarla sull'isola nera. Dov'è quest'isola nera? Porta sud! Dritto davanti a noi! Della stessa famiglia degli scorfani, difficile da fotografare. Ehi, qui va tutto a fuoco! Le meteore dei Domes hanno superato gli scudi! Dobbiamo fare attenzione, Jade! Gli attacchi si stanno intensificando! È per di là che si va a legare degli overcarp? Già! Se ti va, possiamo andare! Ehi, novellina! Benvenuta al campionato! Le regole sono semplici! Chi arriva primo vince una perla! E i primi tre si qualificano per la corsa successiva! Appello a imbranati! Deboli e codarmi! Avete tre secondi per scappare e tornare a fare la calzetta! Tres, dos, uno, via! Ehi ha! Ottimo! Secondo giro per la novellina! Ggi da! Ultimo giro per la novellina! Paguitas! Paguitas! Vittoria! Vittoria! Jade! Il tuo primo campionato! E gli hai fatto mangiare la polvere! Appello a imbranati! Deboli e codardi! Avete tre secondi per scappare e tornare a fare la calzetta! Ha ha! Tres, dos, uno, via! Ha ha ha! Vittoria! 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 Secondo giro per la Novel Liga. Ultimo giro per la Novel Liga. Ultimo giro per la Novel Liga. Ultimo giro per la Novel Liga. Ma avete ancora molto da imparare! Sarà una ca... Dovremmo proprio dare un'occhiata all'area pedonale uno di questi giorni. Signorina Jade... Altre 40 persone sono state rapite da qualche scorsa. Caspi! Salvemo! Ciao Jade! Salvemo! Sì! Sì! Sì. Sì! 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 Grazie.